Buongiorno a tutti, oggi parliamo di motozappe. Che cosa sono le motozappe e cosa servono? Le motozappe sono macchine agricole che grazie al loro peso e all'avanzare delle frese, lavorano più o meno in profondità il terreno interessato, la prima meccanizzazione agricola dopo la zappa manuale. La gamma delle motozappe Bertolini è pensata per uso privato, intensivo e professionale, macchine progettate ad hoc grazie a soluzioni diverse di motorizzazioni, gruppi cambio e regolazioni di manubrio. Bene, ora andiamo a vedere nel dettaglio i diversi tipi di utilizzatore. Partiamo dall'utilizzatore privato, l'utilizzatore privato è colui che deve approcciare a un piccolo orto domestico con la prima meccanizzazione agricola disponibile in estrema semplicità e facilità d'uso. Andiamo a vedere nel dettaglio l'utilizzatore intensivo, l'utilizzatore intensivo è colui che in ambito domestico ha un orto di medie dimensioni da dover lavorare, qui possiamo fare qualcosa in più della semplice fresatura, possiamo arare, possiamo abbinarci uno scavapatate e quindi altre lavorazioni che possono seguire tutta la fase vegetativa del prodotto che vogliamo coltivare. Ed infine guardiamo le macchine professionali, l'utilizzatore professionale è colui che cerca macchine con potenza e profondità di lavorazione per poter lavorare su qualsiasi tipologia di superficie e terreno. La natura di queste macchine non pone limiti ad alcune lavorazioni. Come avete visto la gamma di MotoZap Bertolini offre soluzioni per ogni tipologia di uso e di utilizzatore. Recatevi presso i nostri punti vendita, troverete personale preparato o sempre pronto nel seguirvi nella scelta della vostra macchina. Grazie per l'attenzione, un saluto dallo staff Bertolini.